Buonasera e benvenuti all'International Jets Day dell'Associazione Tolentino Jets. Io sono Claudia Liotta, sono una cantante e una appassionata di storia del jazz e sono qui per presentarvi la prima puntata del documentario Irene Gibbottom, David Faisal Jazz, ovvero Irene Gibbottom, il volto nascosto del jazz. Saranno una serie di appuntamenti su questa songwriter degli anni 40, poco conosciuta ma in realtà molto importante perché lo stesso storico del jazz, Ted Joyal, ha definita una delle cinque donne songwriter che hanno dato il loro contributo per modellare il volto del jazz. Le canzoni di Irene Gibbottom sono state incise da grandissimi nomi del jazz, da Billie Holiday, Anina Simone, Peggy Lee, Duncan Cole, Anita O'Day e anche Louis Armstrong. Per cui vi auguriamo di poter scoprire questa musicista che è anche un'ottima pianista, oltre che una fantastica songwriter, in modo che il suono sia più il volto nascosto del jazz. Irene Gibbottom, la popolare e giovane songwriter residente ad Harlem, è l'autrice del più grande jive tune di tutti i tempi, secondo Benny Goodman, re dello swing che recentemente lo ha registrato. L'ipote di Jay Idlebottom, il famoso trombonista, ha iniziato a comporre musica sin da quando aveva 14 anni. Il suo primo disco è stato Harlan Stomp di Louis Armstrong del 1939. Al momento è piuttosto impegnata in diversi contratti con casi editrici musicali e band leader a Broadway. Suoi dischi recenti sono Bobby Stombone Blues di Bobby Burns, Lever Leap Jones, Fat Swirl, This Will Make a Laugh, The King of Trio, Mrs. Finnegan di Karl Calloway e l'ultimo, That Did Marie. Avete appena ascoltato come veniva descritta Irene Gibbottom in un articolo del dicembre 1941 pubblicato sul quotidiano The New York Age. Popolare e giovane songwriter, prima canzone incisa addirittura da Armstrong e adesso a meno di due anni dal suo debutto sulle scene musicali new yorkesi si accorge di lei anche il grande Benny Goodman, che sceglie una sua canzone, The Did Marie, la incide con la sua orchestra e lancia nel firmamento delle cantanti jazz la giovanissima nonché debuttante Peggy Lee. Ma chi era Irene Gibbottom? Oggi, 80 anni dopo il suo debutto, qualcuno si ricorda ancora di lei? Sapete, questa musicista è davvero poco nota. È proprio un volto nascosto del jazz, di cui nel tempo, decennio dopo decennio, si sono perse le tracce. Ma adesso è arrivato un momento di conoscerla più da vicino e scoprire la sua musica. Sigla Buongiorno, hearty, you old gloomy sight. Buongiorno, hearty, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seems you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you. Good morning, hearty, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Irene Heavily Gibbottom nasce a Worcester, nel Massachusetts, l'11 giugno 1918, da una famiglia in cui la musica è di casa. Il padre Garner Roy Gibbottom Senior sa suonare il trombone, impartisce i primi rudimenti dello strumento al più piccolo dei suoi fratelli. Jack Clayton, che passerà alla storia come J.C. Iggy Bottom, uno dei più grandi trombonisti di tutti i tempi. Dopo la prematura scomparsa della moglie, Hart Wilde Jones, Garnett si trasferisce ad Atlanta e risiede al 124 di Howey Street, con la suocera, la sorella Marion e Irene. Qualche tempo dopo si risposa con Carrie Lee, che crescerà Irene come fosse sua figlia. Dal secondo matrimonio nasceranno Garner Junior e Violet. Nel 1929 la famiglia abita al 992 di Westmore Drive, vicino a Washington Park, in una bella abitazione a due piani, dove Irene suona tutti i giorni sul pianoforte verticale che si trova in salotto. Nelle vicinanze abita Lena Horne, che diventerà poi attrice e cantante di successo. La Horne è allieva del padre di Irene, che insegna presso la Washington High School, e anni più tardi inciterà proprio un brano della nostra songwriter, It's Mad, Mad, Mad. Sicuramente la presenza di Carrie nella vita di Irene avrà avuto una grandissima influenza dal punto di vista musicale. Carrie, infatti, la mamma di Violet, madrigna di Irene, era un'insegnante di pianoforte. Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita di Irene che posano. Grazie al dizionario biografico dell'ASCAP, l'Associazione Americana di Autori e Compositori, che equivale più o meno alla nostra CIAE, veniamo a sapere che Irene iniziò a studiare pianoforte a 5 anni, compose la prima canzone a 13, e che a 15, proprio grazie al fatto che fosse un'eccellente pianista, era già una concertista. Sappiamo inoltre che studiò presso la University Laboratory High School di Atlanta ed ebbe come maestri Aaron Kemper e Frideric Cole. Dalla storica Aileen Sudden apprendiamo inoltre che a 16 anni Irene si esibiva in concerti insieme agli altri musicisti della sua famiglia ed eseguiva le sue composizioni. La notorietà della giovane Irene nella vita musicale di Atlanta è confermata da un articolo che riferisce ad un suo concerto nel 1933 di fronte a 5.000 persone nell'auditorium municipale della sua città, evento promosso dalla Booker T. Washington High School da lei frequentata. L'anno seguente, per il suo corso all'Atlanta University Laboratory High, Irene compose il Senior's Creed, che sarà incluso e stampato nella Negro National Anthology. Nel 1935, Irene ottiene dal padre il permesso di lasciare il suo lavoro di insegnante presso la Washington High School e si trasferisce a New York per intraprendere la sua carriera musicale. Nel 1935, Irene ottiene dal padre della sua città, Prima di spiccare il volo come musicista, Irene frequenta la New York Business School e trova un impiego come scenografa. Cinque anni dopo il suo trasferimento, abita al 369 West della 116esima strada ed è registrata nel censimento del 1940 con la qualifica di autrice di canzoni nell'industria editoriale. In questo ruolo sarà attiva all'incirca 15 anni, collaborando con nomi prestigiosi e producendo un gran numero di composizioni, tra song, ballad, musiche per vaudeville, musica da camera e persino lavori orchestrali. Attanella a battesimo per la prima canzone di cui è depositato il copyright è proprio lo zio Jaycee, un grande trombonista da qualche anno al seguito di Louis Armstrong. Alan Stomp, questo è il titolo del brano, secondo quanto afferma Franz Hoffman, fu ascoltato da Armstrong e piacque talmente al trombettista che subito decise di inciderlo. Il debutto come songwriter avviene al Cotton Club, in un concerto di Armstrong, trasmesso via radio il 18 dicembre del 1939. Alan Stomp, forse grazie alla fama del suo interprete, non passa inosservato e viene citato nella rubrica American Jazz Music del New York Age. Alan Stomp è un nuovo fantastico brano di Jaycee Ickybottom e della sua talentuosa nipote Irene, appena pubblicato dalle edizioni musicali Hewis. Così afferma l'articolo. Il mese successivo, un altro articolo affianca il nome della Ickybottom ad Armstrong, a proposito di un ingaggio di quattro settimane al Cotton Club. Follows the King, segue il re, titola il trafiletto, che oltre a citare Alan Stomp, dà notizie di altri tre brani composti da Irene, sempre con lo zio Jaycee, I'm my mama's baby, as I didn't know, e Nightwind's grenade, di cui però sino ad oggi si sono perse le tracce. Come avete visto, i primi passi di Irene come Esmond Ryder proseguono in modo davvero promettente. Siamo nella primavera del 1940, non ha ancora vent'anni, e già i giornali parlano di lei e del suo sodalizio con lui Armstrong. Ma proprio in questo periodo succederà qualcosa di cui nessun giornale scriverà. Proprio nei primi mesi del 1940, Irene compone altre due canzoni con suo zio Jaycee, Ickybottom. Stavolta però, tra gli autori, c'è anche un'altra persona, ed è addirittura Louis Armstrong. Ma i brani in questione, All My Jeep and My Heart Is At Your Command, non saranno mai né registrati né pubblicati, sino a quando... Ma questa è un'altra storia, e ve la racconterò prossimamente. La prima puntata di Ickybottom dei The Face of Jazz termina qui. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti, e se volete sapere come prosegue la carriera musicale di Irene a New York, seguitemi su questo canale, dove saranno trasmesse le prossime puntate, ma trovate anche altre informazioni su di lei, Women in Jets, I'm in Agybottom. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao! We got a brand new sender, and I believe it's in the groove. It's got the jittifo song... Good morning, hearty, you old gloomy sight. Good morning, hearty, thought we said goodbye last night. I turned and tossed, until it seems you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by saying to you, Good morning, hearty, what's new? Stop haunting me now. No thank you, we're going for that button,